Poco prima delle ore 20 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente tra due vetture sulla tangenziale strada statale 62 nel tratto compreso tra Villa Franca di Verona e Dossobuono. Il bilancio dello scontro è di quattro persone ferite che viaggiavano a bordo di una delle due vetture coinvolte. I vigili del fuoco giunti dal comando Scaligero hanno operato per estrarre dalle lamiere utilizzando cesoi e divaricatori idraulici due persone che risultavano incastrate. Una volta estratte le stesse venivano affidate alle cure dei sanitari presenti sul posto illeso l'autista della seconda vettura coinvolta. Per tutto il tempo delle operazioni di soccorso e messe in sicurezza la strada è rimasta chiusa al traffico.